Sì, scusa tanto se non te l'ho detto, ma non stai molto bene. E l'unica vera cura è restare tutto il giorno a casa. Ciao. Victoria è sicuro e protetto. Qui potete vivere la vita che meritate. Possiamo tutti vivere la vita... Ciao. Frank ha costruito qualcosa di molto speciale. Ciò che ha creato qui è un sistema diverso. Un sistema migliore. Io abito a fianco e non puoi capire le cose che sento. Jack e Alice hanno tempo solo per se stessi. Qual è il nemico del progresso? Il caos? Sì. Orrenda parola. Caos. L'unica cosa che ci chiedono è di restare qui. Qui al sicuro. Ero qui quando sei tornato. Sì. In camera che dormivi. Così respira. Molti dei miei pazienti ne hanno tratto slovamento. Violet, dove hai conosciuto Bill? Veramente su un treno. Per Boston. Ti è caduto il biglietto? E lui si è chinato, l'ha raccolto e te l'ha ridato, giusto? Grazie per la tua fedeltà. Che stiamo facendo? Cambiamo il mondo. Loro mentono, non fanno che mentire. State calmi e andate avanti. Ti ho dato tutto questo, Alice! È una forma di controllo. Questo mondo di chi è? Nostro! So chi siete, uno per uno. Che non hai nessun diritto di togliermi! Alice! Va! Ti prego, ti prego! Aspettavo qualcuno come te disposto a sfidarmi da brava ragazza. Ti. Tu. Ti. Tu. Ti. Ti. Grazie a tutti